Ciao, bentornato sul canale YouTube di Associazione Culturale Maggiolina. In questo video continuiamo a parlare di smartphone, di email e quindi di Gmail. Come inviare messaggi in modalità speciale, tra virgolette. Sì, perché Gmail, tra tutti i gestori di poste, è quello che ci dà delle opzioni aggiuntive molto particolari. Andiamo a vedere. Quindi, nel mio telefonino, vado ad aprire la cartella che contiene le applicazioni di Google. Apro Gmail, cosa che abbiamo fatto anche in altri video, nei video precedenti. E ora inviamo un messaggio. Quindi vado su scrivi, digito l'indirizzo del destinatario. Io invio sempre alla nostra casella email di prova, che puoi utilizzare anche tu, che si chiama test, però tutto minuscolo, perfetto, test-associazione-maggiolina.it Oggetto messaggio di prova. Perfetto. E poi scrivo il messaggio. Ciao Daniele, ti invio questo messaggio di prova. Perfetto. E poi mi firmo Mario. Ok. Ora sto per inviare il messaggio. Quali sono queste opzioni speciali? Sono due. L'invio posticipato di un messaggio. Mettiamo il caso che io debba inviare un messaggio particolare, auguri, qualcosa che deve essere visionato e che deve essere ricevuto un determinato giorno, per far capire che io sto pensando alla persona, a quella situazione, in quel momento. Però, caspita, ho paura di dimenticarmi. Oggi mi ricordo esattamente il compleanno di Marina, ma tra una settimana mi ricorderò quando è il giorno. Mi ricorderò di questa cosa, oppure quel giorno sarò particolarmente impegnato, sarò in difficoltà. Programmo un invio in questo momento. Quindi vado sui tre pallini e scelgo Programma l'invio. Premo. Vado a scegliere quando. Domani mattina, domani pomeriggio, lunedì mattina. Scegli data e ora. Sì, perché Marina compie gli anni mercoledì prossimo. Quindi scelgo data e ora. Seleziono mercoledì prossimo, col prossimo intendevo la settimana prossima, quindi non questo mercoledì 10 marzo, ma mercoledì 17 marzo. Io potrei mandare messaggi anche posticipati di anni, se ho la necessità di fare questo. Per adesso siamo semplicemente marzo 2021, il 17. Ok? E a questo punto a che ora arriverà il messaggio? Beh, facciamo presto, alle nove di mattina oppure alle otto e mezza. Facciamo vedere che proprio è il primo pensiero, per cui vado a scegliere le otto e trenta. Non voglio scriverlo alle sei di mattina, perché vabbè, magari il primo pensiero, ma potrebbe essere un po' esagerato. Dico ok e a questo punto programmo l'invio. Fatto! Il messaggio è programmato. Partirà il 17 marzo alle ore otto e trenta. Quindi io non devo più fare niente. Posso dimenticarmi della cosa. Certo, se nel frattempo mi dico, ma sai che forse potevo fargli degli auguri più forti, migliori, mi è venuta una frase migliore, posso ancora cambiarlo. Il messaggio non è che sia partito, è ancora nel mio telefonino. E dov'è? Per fare questa modifica vado sulle tre righine, vado in in programma, eccolo qua, premo. A questo punto vedo i messaggi programmati. Ne ho uno programmato per il 2024. Lo abbiamo fatto insieme in un video diverso in cui parlavamo di Gmail con il computer, quindi l'utilizzo di Gmail a computer. Oggi siamo qui con questo messaggio di prova, per cui vado a premere qui sopra, rivedo il mio messaggio e vediamo se posso cambiarlo. Se premo qui non vedo nulla. Potrei annullare l'invio oppure vediamo se c'è un modifica. Modifica etichette, disattiva, no. Beh, a questo punto annullo l'invio. Ok. Posso modificare il messaggio. Vediamo se premo qui no. Devo utilizzare la matita. Ok. E adesso ci scrivo qualcosa di più adeguato. Per cui, in questo caso, ciao Marina. Tantissimi auguri di buon compleanno. A questo punto ci firmiamo con affetto Mario. Facciamo un po' di spazio. Ok. E qui scriviamo, anziché messaggio di prova, scriviamo tanti auguri. Punto esclamativo. Perfetto. Riprogrammiamo il messaggio. Per cui, tre pallini. Programma l'invio. Scegli data e ora. Mercoledì 17 marzo. Ok. Ore 8 e 30. Ore 8 e 30. Ok. Programma l'invio. Fatto. Ora, il mio messaggio è stato modificato e ho creato un messaggio posticipato per Marina con tanti auguri. Perfetto. Posso uscire da tutto, andare in posta principale, nella cartella di posta principale, ed ecco fatto. Quindi questa era la prima opzione. La seconda opzione speciale, tra virgolette, qual è? La possibilità di mandare messaggi riservati. Devo inviare un messaggio molto privato a Marina o a qualcun altro. Quindi non vorrei che venisse proprio letto da nessuno. Ma quasi quasi non vorrei neanche che Marina potesse copiarlo, stamparlo, inoltrarlo alle sue amiche, a qualcun altro. Quindi, guarda, ti mando questo messaggio, lo vedi solo tu e basta. Devo essere certo di questo. Quindi Gmail ci mette a disposizione una funzione speciale. Proviamola. Quindi scrivo il messaggio, perché in fin dei conti tutto quello che devo fare è sempre scrivere un messaggio in maniera tradizionale. Quindi scrivi. Scelgo l'indirizzo del destinatario. Per me è di nuovo test. Pioccio l'associazione Maggiolina.it. L'oggetto. A questo punto, se devo mandare un messaggio riservatissimo, Converrà che io scriva messaggio super personale riservato, oppure meglio che io scriva qualcosa di non interessante, che non attiri l'attenzione. Qui si tratta un po' di pensarci, di renderci conto della persona che riceve quel messaggio, di sapere se ha delle persone che possono leggere quel messaggio e quindi scegliere. Se è meglio scrivere messaggio riservato e pensare che i suoi collaboratori allora non lo leggano. O se invece è meglio scrivere qualcosa di diverso, di semplice, proprio per non attirare l'attenzione. In questo caso io scrivo solo per Marina. Perfetto. Ora scrivi email e qui scrivo ciao Marina. Devo confidarti un segreto. E a questo punto ci scrivo mi sono iscritto al canale YouTube. Scriviamolo bene. As Maggiolina. Fallo anche tu. Mario. E ci siamo. Bene. A questo punto devo essere certo che questo messaggio possa essere letto solo da Marina. Benissimo. Come faccio? Vado qui sui tre pallini. Scelgo modalità riservata. Visto che deve essere un messaggio privato. Modalità riservata. Perfetto. E ora devo impostare delle opzioni per gestire questa riservatezza. Innanzitutto questo messaggio ha una scadenza. Se Marina non lo guarda entro una settimana questo messaggio basta. Non può più essere visto neanche da lei. Non voglio che rimanga in giro troppo tempo archiviato magari all'interno della sua casella di poste eccetera. No. Questo messaggio lo leggi e poi scade. Io posso scegliere un tempo e tu lo legga o non lo legga il messaggio scade. Quindi ha una scadenza programmata. Se io metto scade tra un giorno se Marina entro un giorno lo guarda bene. Se non lo guarda scade comunque. Se Marina lo legge e è contenta lo vuole tenere lì il messaggio scade lo stesso e tra un giorno non è più disponibile. Quindi proprio il messaggio scompare, si disattiva. Non ho mai detto questo. Questa è una cosa particolarmente importante. E qui adesso devo impostare un metodo di autenticazione da parte di Marina per dimostrare che è effettivamente lei. E ho due possibilità di metodi di autenticazione. Sono questi. Allora tutti i passcode saranno generati da Google. I destinatari non Gmail, quindi non Gmail, riceveranno un passcode via email per l'autenticazione. Ok, quindi se è un Gmail Google sa già che è lui. Se è una casella di posta diversa, come in questo caso Test Associazione Maggiolina, allora riceverà un passcode. Bene, chiudiamo l'assistente che si è aperto quando mi ha sentito dire ok. Passcode standard via email. No, voglio un passcode via SMS. Quindi io mando un'email riservata a testchiocciolassociazionemaggiolina.it per dimostrare di essere effettivamente la persona giusta. Gmail manderà anche un SMS con un codice a quella persona per verificarne la sua identità. Comunque ho fatto tutto. Sono a posto. Quindi devo semplicemente salvare. Salvo. Ecco qua. Il messaggio è impostato come messaggio riservato. E qui ho questo avviso. Il contenuto scade il 9 marzo 2021. I destinatari non disporranno dell'opzione di inoltro. Non possono mandare il messaggio a nessun altro. Copia. Non possono copiarlo sul loro computer, sul loro telefonino. stampa. Non possono stamparlo. Non possono scaricarlo. E quindi diciamo che aumento la mia riservatezza. Nonché la scadenza del nostro messaggio è prevista per il 9 marzo 2021. Ok. Ora devo semplicemente inviarlo. Premo invia. E a questo punto devo dirgli il numero di telefono. Se Gmail deve inviare un sms alla persona, avrà bisogno di sapere il numero di telefono di quella persona. Me lo chiede qui. E quindi vado a chiedere. Aggiungi informazioni mancanti. Il numero di telefono. Premo. Fornisco il numero di telefono della persona. e dico fine. Premo di nuovo su invia. E il messaggio se n'è andato. Quindi la persona riceverà un messaggio in modalità riservata. Manca ancora qualche istante. Ecco il messaggio è andato. Perfetto. Quindi io, da parte mia, ho fatto tutto. Sono a posto. Dato che si tratta di un messaggio in modalità riservata, vogliamo vedere cosa capita a Marina quando riceve quel messaggio. Quindi in questo caso vado sul computer, perché Marina lo guarda col computer, il suo messaggio, e vado a vedere che cosa ha ricevuto. Quindi sto andando a cercare il messaggio privatamente e poi lo apriamo. Quindi vado ad aprire il messaggio per Marina. Eccolo qua. Ed eccoci qua. Quindi io sono nella mia casella email, non Gmail in questo caso. Vedo che ho ricevuto un messaggio. Lo apro. C'è scritto solo per Marina. Questo è l'oggetto. E c'è scritto questo messaggio. È stato inviato il giorno 8 marzo 2021 alle ore 3.19.36. Qui l'orario è un po' sballato in questo caso. Puoi aprirlo facendo clic sul link di seguito. Questo link funzionerà solo per test che ho l'associazione Maggiolini. Va bene, dai. Fammi vedere queste email. Premo su visualizza. Per visualizzare queste email devi prima confermare la tua identità. Invieremo un passcode valido per un solo utilizzo a un certo numero di telefono. Vedo il finale proprio perché per riservatezza non vogliamo far sapere a nessuno qual è il numero di telefono. Per cui in questo caso chi volesse leggere questo messaggio riservato dovrebbe anche sapere qual è il numero di telefono per poter andarlo a controllare. Non si vede e quindi non può saperlo. Invia passcode e a questo punto aspetta la controparte. Quindi chi ha ricevuto il messaggio deve inserire il codice lì dentro. Nel mio caso me lo sono mandato al mio tablet quindi vado a vedere sul mio tablet l'SMS ricevuto. Vediamo. Eccolo qua. Vado a trascriverlo qui. 086172 Il mio browser ricorderà il passcode questo codice per i prossimi 5 minuti se tengo attiva la casellina. Ma sì, lo posso fare. Dico invia e ora vengo riconosciuto e vedo il messaggio. Messaggio molto particolare proprio perché non si può stampare non si può fare nulla. Certo se so usare bene il computer non mi ferma questa cosa però è già un bel vantaggio riuscire a mandare un messaggio in forma riservata come questo. Ciao Marina devo confidarti un segreto eccetera eccetera. Bene mi auguro che questo video ti sia piaciuto ti sia utile in quel caso metti un mio piace qui sotto c'è il pollice in su iscriviti al canale se ancora non lo hai fatto e attiva la campanella così sarai avvisato all'uscita dei prossimi video e ora puoi anche abbonarti al canale YouTube Associazione Maggiolina e vedere sempre qui su YouTube i video della serie speciale riservata agli abbonati. Ci vediamo presto Ciao Ciao